Bene, rimanendo sempre nel contesto religioso, dalla vera gioia adesso passiamo a un'altra raccolta di brani spirituali gospel, raccolta che è dedicata a tutti quei popoli africani che sono stati per un periodo utilizzati come schiavi, come bestie nelle nuove Americhe. E dedichiamo proprio a loro questi brani che hanno creato, hanno inventato tra virgolette loro proprio lo spiritual, il gospel e quindi li abbiamo messi insieme in questa raccolta dove ci sono i più celebri ed importanti brani spiritual gospel di quel periodo. A voi il momento spirituale, the spiritual moment. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.